Si può tornare agli ordini dello starter per questo premio Villa Glory, ribadiamo il campo partenti. La prima fila per l'1, Erminio Ferm, Crescenzo Maione, il 2, Edith Robb, Giorgio Alessandro Ionor, il 3, Elida Spritz, Sabato Di Vincenzo, il 4, Era Walter D'Ambrogio, il 5, Isi Stecca, Dario Battistini, il 7, Tien Gifar, Roberto Vecchioni. La seconda fila per l'8, Ecuador, Griff, Vincenzo Villani, il 9, Edith Sco, Paolo Pietrofauli, il 10, Nea DBL, Emanuele Limongelli, l'11, Eclipse Faluer, Enrico Bellè, il 12, Edoardo Reg, Lucio Becchetti, il 13, Epi Cabi, Vincenzo Alessandro Ionor, il 14, Enfant Prodige, Par, Luigi Quozzo. Terza fila per il 15, Evitasop, Warner Martellini, il 17, Nea Dica 6, Roberto Muscolini. 150 al lancio. Macchina che lascia i concorrenti. Prova ad emergere dal centro dello schieramento Isi Stecca che però vede rientrare all'interno Elida Spritz e poi riesce a scendere la corda Isi Stecca. All'esterno c'è Etienne Gifar. Si va così con la seconda pareglia occupata da Hera quando si completa la prima curva e con esso anche il primo quarto di gara che viene percorso in 29,5. Etienne Gifar che va a premere su Isi Stecca. E a ottenere il via libera davanti alle tribune. Massaggio ai 600 con sempre Etienne Gifar al comando. 44,8 i 600 di gara. Treno esterno di corsa che vede Hera in pole position scoperta. Poi a precedere il tentativo di risalita di Epi Cabi. Metà gara in 1,1 con Etienne Gifar che ora sullo slancio sta facendo un po' di selezione. Faticano gli altri a tenerne il passo. Rimane una lunghezza e mezza ancora Isi Stecca. Molto più indietro gli altri il chilometro in 1,14,8. Mentre prova ad avanzare con il numero 13 ancora Epi Cabi. E all'esterno di tutti cerca anche di ingambarsi Eclipse Fallu che poi sbaglia. Si va a mettere la piegata conclusiva. Sempre Etienne Gifar leader nei confronti del resto della compagnia. capeggiato da Isi Stecca addirittura d'arrivo con Etienne Gifar ancora in controllo. Poi ancora Isi Stecca, poi Epi Cabi. Dall'esterno a prova ad avanzare anche il numero 8 di Ecuador Griff che è molto incisivo. Ecuador Griff che avanza, guadagna metri. Ecuador Griff che va su Etienne. Ultimi metri. Ecuador Griff che viene a passare e a ottenere il successo con una retta d'arrivo davvero molto molto incisiva. Numero 8 al primo posto. Ecuador Griff con Vincenzo Villani. E poi precedere Etienne Gifar che a quel punto deve accontentarsi del secondo posto. Io ho 2 minuti e 5 decimi sul cronometro. Vedete, a velocità doppia. Ecuador Griff che avanza e ottiene il successo. Mentre il secondo posto si avvicina notevolmente anche il numero 13 di Epi Cabi. Ma sembrerebbe che all'interno Etienne Gifar possa essere riuscito a mantenere qualcosina di margine. Però c'è il lavoro per il fotografo. Quarto per la cronaca. Il numero 5 di Isi Stecca. 1,15 scarsi. La media al chilometro. 14,9 e 14,8 per Ecuador Griff. Gran retta d'arrivo del figlio di Maragia e Rosa Griff. Vincenzo Villani. In tre guida e training. I colori della signora Isabel Arena. Grazie a tutti. Grazie a tutti.